Gianluca Roscilione, il tuo primo mondiale in assoluto, sei il più giovane della squadra, hai perso subito ma comunque immagino che sia per te comunque stata una grande esperienza. Sì, innanzitutto una grande esperienza, sento poi essendo molto giovane a partecipare a questo mondiale, ho immaginato degli obiettivi, purtroppo non è andata così però sono contento lo stesso, mi portare a casa sicuramente una grande esperienza. Sono riusciti perfettamente tutto, l'unico fatto è che il mio avversario era molto più esperto di me quindi mi faceva fare determinate cose che io sono abituato a fare magari con i ragazzi del mio stesso livello. Sicuramente questa sconfitta la prenderò come motivo in più sempre per allenarmi e migliorare sempre di più, i miei obiettivi saranno sempre di combattere, cercare di vincere qualcosa.